Ciao a tutti i grandi e piccini, ecco perché tra le pagine di Capricci e Coccole, le tempeste non fanno paura. Quando arriva la tempesta, viene e piega sulla testa. Vento forte tra i lamezzi. Meglio stare stretti, stretti. Torna il sole ed il sereno, con un bacio arcovaleno. Seguiteci.